Una giornata ricca di spunti, di momenti importanti, con contributi di alto livello, sia a livello istituzionale come a livello di esperienze. Esperienze che riguardano la società, una società quella attuale provata dalla crisi, ma anche ricca di risorse nuove, di una società che si mostra ancora solidale e dove gli assistenti sociali svolgono un ruolo fondamentale di tessitura, di relazioni, di servizi e di opportunità per una giustizia sociale. Gian Mario Gazzi, Presidente del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali, commenta così Dialoghi sul domani, l'evento celebrativo ai 25 anni della legge istitutiva della professione. Un compleanno ricordato dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, con una prestigiosa targa accompagnata dal profondo apprezzamento, come scrive, per il sostegno che gli assistenti sociali offrono a chi si trova in condizioni di bisogno e di disagio sociale. Da parte sua, il Ministro Orlando ha sottolineato in un messaggio come la professione rivesta un ruolo centrale nell'affrontare le complesse questioni che caratterizzano la nostra società. Dialoghi sul domani, nella sala auditorium del Maxi di Roma, ha voluto raccontare, moderati da Daniela Poggi, il percorso compiuto in questi anni e gli impegni futuri, chiamando a raccolta sui maggiori temi al centro della professione esponenti delle istituzioni, della politica, delle professioni, di organismi e associazioni. E con alcune toccanti letture affidate all'attrice Valeria Solarino e con le nobili parole dei genitori di Giulio Reggeni, alla cui campagna per la ricerca della verità, il Consiglio Nazionale ha aderito. 25 anni che partono da lontano, con la prima presidente Rossi che guardando al futuro dice L'assunzione di un maggior ruolo politico, io mi auguro questo, di maggiore capacità di trasmettere la professione, ma anche e soprattutto la volontà di esserci nel mondo e per dare un indirizzo che faccia spazio a quelli che possono di meno. Con le presidenze della scomparsa Fiorella Cava, quelle di Franca Dente e di Edi Samori, presenti con un messaggio, fino a quella di Silvana Mordeglia che pensa alla professione, come sta cambiando e come si sta radicando nel contesto sociale. Di questo io sono molto contenta. Penso che occorreranno altri 25 anni perché davvero questa trasformazione possa essere piena attraverso i percorsi formativi, la formazione continua, la passione di tanti di noi. Sentiamo ora le voci di alcuni dei protagonisti di Dialoghi sul Domani. Abbiamo imparato che per curare bene un anziano non otto sufficiente, per dare una prospettiva a un bambino e farlo crescere bene, ci vogliono quello che a volte sembrano cose del passato, ma che invece sono diritti ancora non acquisiti, cioè la rete integrata dei servizi sociali. Rete integrata dei servizi sociali. Questa parola purtroppo si sta cancellando dal dibattito politico e culturale del nostro paese e io sono indignata, preoccupata, preoccupata e dobbiamo combattere perché si riparli di valore dei servizi sociali. È una professione assolutamente decisiva, in crescita, a 25 anni sono persone con molta energia e credo che avranno sempre più da fare perché sia i bisogni di cura delle persone aumentano, aumentano i bisogni di servizi e quindi servono più investimenti, investimenti delle persone oltre che dei fondi in questi settori, in senso lato di cura alle persone. In un contesto sempre più complesso la professione si è aperta ed è aperta a nuove sfide, quelle di una società non semplice, in continua evoluzione. Da qui la collaborazione con l'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza in tante attività, nelle visite di monitoraggio, nei centri di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nell'attività di formazione degli aspiranti tutori volontari. Tante sfide aperte richiedono un collante fra ambiti anche professionali diversi. Continuare nel percorso di crescita dimostrato in questi anni, di assumere finalmente anche dal punto di vista del consenso tra le persone il giusto valore, quello che è effettivamente il valore importante della professione, che non è soltanto una questione tecnica ma è proprio quella incredibile capacità di costruzione, di rete sociale, di coesione sociale che troppo spesso non viene invece assolutamente riconosciuto, a cominciare dalle istituzioni. Dobbiamo continuare a lottare per questo. Penso che sia molto positivo che oggi gli assistenti sociali si siano voluti mettere in ascolto anche di esperienza, appunto come quella di Agevolando che rappresenta tanti ragazzi fuori famiglia, ma insieme a me anche appunto c'era la voce delle famiglie Arcobaleno e di chi lavora accanto ai minori stranieri non accompagnati. Quindi questo desiderio di mettersi in ascolto da parte del servizio sociale mi sembra importantissimo, di ripensarsi anche guardando al passato ma soprattutto al futuro. Da consulente del lavoro non posso che guardare all'ordine degli assistenti sociali come a una professione limitrofa, prossima a quelli che sono i nostri impegni e la vocazione sociale della nostra categoria e soprattutto anche l'impegno a trovare soluzioni che possano parlare di lavoro e di accompagnamento al lavoro. Poi un lungo e caloroso applauso a sugello di questi primi 25 anni sui quali Gazi dice Sicuramente sono stati anni che hanno visto l'affermazione di diritti da un lato, ma anche momenti molto bui come ad esempio quelli legati all'azzeramento di tutti i fondi per il welfare, azeramento di fondi che ha provocato un depauperamento delle strutture e delle infrastrutture sociali del paese che oggi ancora paghiamo ma che oggi guardiamo anche con un sano ottimismo per il futuro sperando che possano essere rinforzati garantendo quelle opportunità che la Costituzione ci impegna a dare. Aggiunge Gazi. Serve una maggiore formazione, una formazione più specifica rispetto a ciò che sta cambiando intorno a noi. E sulla targa del Capo dello Stato dice infine Il Quirinale è un punto di riferimento per la nostra comunità professionale e per tutto il paese. Il riconoscimento che ci ha dato oggi il Presidente Mattarella ci inorgoglisce e soprattutto ci spinge a essere migliori per questo paese.